Incentivi! Finalmente sono arrivati! E allora vediamo quali sono le cifre, vediamo quali sono le modalità di applicazione, qualche trucco per potersi muovere nel modo giusto e vediamo anche quali saranno le vetture che rientreranno all'interno dello schema di incentivazione. Quindi iniziamo subito con questo video. Iniziamo dalle caratteristiche che dovranno avere le automobili per essere incentivate. Iniziamo dalla fascia più virtuosa, quella delle elettriche, da 0 a 20 grammi al chilometro di CO2. Questo è l'elemento che è discriminante per le vetture perché va a influire direttamente su quali saranno le somme destinate all'acquisto di quella vettura o se effettivamente quella vettura avrà accesso ad un incentivo pubblico. Quindi da 0 a 20 grammi al chilometro di CO2, la prima fascia, parliamo di vetture elettriche e anche qualche ibrida plug-in e arriveremo su questo punto tra poco perché c'è anche qui da fare qualche considerazione in più, ma riguardo alle vetture interamente a batteria ci sarà proprio la possibilità di avere accesso all'incentivo maggiore. Le cifre le vediamo tra poco. Per quel che riguarda invece le vetture ibride plug-in, quindi sono vetture ibride, possono essere a benzina o gasolio con una batteria a bordo ricaricabile, hanno una fascia di emissione tra 21 e 60 grammi al chilometro di CO2. E qui ci sono altre cifre non soltanto per quel che riguarda l'incentivo ma anche per quel che riguarda il prezzo d'acquisto della vettura. E arriviamo anche a questo tra poco. E poi da 61 a 135 grammi al chilometro di CO2 è la terza fascia all'interno della quale rientrano vetture a gasolio, vetture ibride di tipo full, mild hybrid, vetture a benzina, vetture a GPL, insomma ci sono tante motorizzazioni differenti che possono essere incentivate. Chiaramente mano mano che si sale con i grammi al chilometro di CO2 scendono le cifre di cui si potrà godere in fase di acquisto. Attenzione però ci sarà un elemento fondamentale da ricordare, ossia i giorni che passeranno tra la prenotazione dell'incentivo e l'effettiva consegna del veicolo. Questo termine massimo sarà di 270 giorni, quindi il venditore effettuerà la prenotazione dell'incentivo e entro 270 giorni dovrà consegnare alla vettura. Nel caso in cui questo non avvenga il contributo decade, andato, perso per sempre, bisognerà rifare un'altra pratica nella speranza che i fondi siano disponibili. Tra l'altro in questo senso è importante e soprattutto utile ricordare che c'è un sito specifico del Ministero dello Sviluppo Economico che appunto si chiama ecobonus.mise.gov.it. Su quel sito avrete accesso a tante informazioni, comprese tra l'altro anche quelle relative ai fondi ancora disponibili, che ha sempre senso comunque tenere sott'occhio se magari state pensando di cambiare auto e non volete rimanere a bocca asciutta. Ma arriviamo alla ciccia, alle cifre, quanto vale effettivamente questo contributo? Come detto, l'elemento discriminante sarà legato alle emissioni di CO2, ma ci sarà un altro elemento discriminante, ossia la presenza di un'eventuale vettura da rottamare. Più vecchia sarà, maggiore sarà il contributo ed acquisto sulla nuova, ma ci sarà accesso a un contributo anche per chi non rottava la vettura. In particolare, le vetture elettriche avranno senza rottamazione o 6.000 euro oppure 7.500 euro per tutti coloro che avranno un reddito familiare, ISEE, inferiore ai 30.000 euro. Per le ibride plug-in le cifre saranno o 4 o 5.000 euro. Per tutte le altre alimentazioni, invece, senza rottamazione non è previsto alcun contributo. Invece, per chi acquista un'elettrica con rottamazione fino a 1,02 euro, si sale a ben 11.000 euro. In questo caso, per persone fisiche o giuridiche, con reddito maggiore ai 30.000, ma si arriva a ben 13.750 euro se il reddito ISEE è inferiore ai 30.000. A schermo poi vedrete tutte le altre cifre. Potrete stoppare il video per poterle consultare in tutta comodità. Altro elemento da ricordare è il prezzo della vettura, che non dovrà superare i 35.000 euro senza IVA, o quindi 42.700 euro con IVA, nel caso di un'elettrica. Stesso limite di prezzo per tutte le vetture dai 61 ai 135 grammi al chilometro, mentre per le ibride plug-in si sale a 45.000 euro senza IVA o 54.900 euro con IVA. Queste informazioni sono davvero tante, ce ne rendiamo conto, ecco perché abbiamo realizzato una guida specifica sul nostro sito che potrete consultare con le risposte alle domande più frequenti. Ve la lasciamo qua sotto in descrizione. Oltre a tutto, e questo è un elemento fondamentale per cercare di non avere degli aumenti di listino che poi vengono compensati gli incentivi che non avrebbe senso in termini effettivi di supporto all'acquisto per l'acquirente, ebbene sarà comunque necessario distinguere lo sconto dall'incentivo, quindi sul contratto d'acquisto ma anche sul preventivo dovrà essere indicato chiaramente lo sconto e poi detrarre l'incentivo, quindi non potranno essere così delle compensazioni proprio dovute anche magari degli incrementi di prezzo che ci sono stati di recente, che sono stati importanti. E a proposito di prezzi, facciamo qualche esempio, vediamo quanto scenderanno i prezzi. Su quattro ruote di marzo, insieme ai dati del nostro centro prova, avete trovato qualche simulazione specifica, ad esempio su una Megane, nella sua versione EV60 Tecno che scende da 42.000 a circa 28.300 euro con l'incentivo maggiore, poi Tesla Model Y da 42.690 euro a 28.940 euro e la Dacia Spring che scenderebbe, pensate, da 23.200 euro a 9.450 euro. Per le plug-in il discorso è diverso perché ci sono cifre differenti di listino, ma comunque siamo da, ad esempio, una Cupra Formentor da quasi 52.000 euro scende a indicativamente 42.000, Renegade da 44.000 euro a 34.000 e poi ovviamente abbiamo tenuto in considerazione anche vetture a più ampia diffusione, tra cui la Dacia Sandero da 17.900 a 14.900 euro, la Panda da 15.600 a 18.600 euro e la T-Roc da 36.950 a 33.950. Attenzione però perché, come dicevo, le cifre saranno poi diverse, noi abbiamo detratto semplicemente da listino perché non sappiamo quali saranno gli sconti applicati di mese in mese dalle case auto, ma chiaramente poi si andrà in concessionaria e si farà una valutazione molto più specifica e più precisa. Mentre facevamo le nostre ricerche, andavamo a spulciare quella nel listino per capire quali vetture potessero essere incentivate, è capitato di incontrare alcuni casi davvero limite borderline che rischiano di essere assurdi per certi aspetti. Infatti pensate che ci sono alcune vetture ibride plug-in con un'autonomia elettrica talmente estesa o un'efficienza talmente elevata che addirittura rientrano tra le vetture elettriche, quindi rientrerebbero tra le 0,20 grammi al chilometro di CO2. Parliamo nello specifico della Toyota C-HR e anche della Prius plug-in, ma non solo, potranno arrivarne in futuro anche altre, ad esempio ci sono tantissime vetture del gruppo Volkswagen che potranno avere accesso a un'autonomia elettrica veramente estesa e quindi bisognerà poi vedere quale effettivamente sarà il prezzo di listino, ma rischierebbero quasi di rimanere senza casa, come dire, all'interno dello schema di incentivo perché troppo costose. E allora a quel punto non potrebbero rientrare nello schema pensato dal governo, ma dall'altro punto di vista potrebbero essere estremamente efficienti su strada, molto virtuoso dal punto di vista delle emissioni, perché se la si ricarica a casa, come si farebbe con un'elettrica normalmente, le emissioni durante la vita quotidiana a quel punto sarebbero veramente ridottissime. Però appunto questa differenziazione di prezzo potrebbe portare tante ibride plug-in a non rientrare nell'incentivo più alto in termini di prezzo e questo sarebbe un vero peccato. Vedremo in futuro appunto quali saranno i listini e se magari ci saranno adeguamenti da parte del governo. A questo punto però la palla passa a voi, come sempre nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate riguardo agli incentivi. Pensate che possano essere più efficaci rispetto a quelli che erano stati proposti in passato? C'è stata questa critica riguardo al fatto che chi magari aveva una vettura molto vecchia e quindi poteva avere accesso all'incentivo effettivamente. Dall'altro punto di vista era improbabile che si sarebbe potuto permettere un'automobile magari da 35-40 mila euro e quindi non era molto sensato lo schema di incentivi proposto in passato. Questa potrebbe secondo voi cambiare un po' le carte in tavola? Fatemelo sapere nei commenti e ditemi se pensate di accedere proprio agli incentivi prossimamente. Alla prossima, ci vediamo qua, sempre su quattro ruote. Grazie a tutti.